Parte la 44esima edizione della Rossini Opera Festival. Ad inaugurare il ROF alla Vitri Frigo Arena è in questo venerdì sera la nuova produzione Edoardo e Cristina, ultima opera del catalogo ufficiale rossiniano non ancora eseguita al festival. Una rarità al pari di Aureliano e Palmira che seguirà la seconda serata del sabato e di Adelaide di Borgogna, seconda nuova produzione in cartellone che contrassegnerà la domenica della Vitri Frigo Arena. Un programma operistico anticipato da un battesimo del ROF è arrivato già questa mattina fra Casa Rossini, dove è stata inaugurata la mostra dedicata ai 200 anni dell'opera Semiramide e la Sala della Repubblica del Teatro Rossini. Aspettando il termine dei lavori sul teatro previsti per settembre, il ridotto recuperato a marzo ha ospitato questa mattina il primo dei ROF Talks, tre mattinate di conversazione attorno a presente futuro del festival che in mattinata al fianco del sindaco Matteo Ricci e del presidente del ROF Daniele Vimini ha visto anche la presenza del sottosegretario della cultura Vittorio Sgarbi. Da più di 40 anni ormai e dalla prima edizione io lo vidi, adesso purtroppo le regole di Speranza e di Conte stabiliscono che oltre le sei non si potrà andare a teatro, quindi non si potrà vedere nessuno spettacolo. Perché abbiamo vissuto che a quell'epoca lì mi chiedevo se avessero saltato le lezioni del 21 e del 22, ma mi pare di no. In ogni caso quelle regole assurde sui ristoranti provano che abbiamo vissuto un incubo e dall'incubo si esce soprattutto con Rossini, perché Rossini è la felicità e la vita. Sarebbe stato schierato come sono stato schierato io con l'amico Carriera, visto che siamo a Pesaro, per ritenere che i piacere della tavola come quelli della musica non possono avere limiti temporali. E allora nel nome della festa, in una città in cui il sindaco era stato così severo per far rispettare le regole, credo che l'anima di Rossini volesse dire invece esattamente il contrario, cioè salvare la vita e oggi la vita ritorna, il turismo ritorna e questo festival, che è il primo festival italiano per la musica, dedicato come quello di Salisburgo a un solo musicista, indica il ritorno alla vita, di non cadere mai più nei tranelli di falsi governi che danno ordini grotteschi e ridicoli. Mi ricordo che sono venuto le ultime volte qui a Fano e a Pesaro proprio da Carriera per entrare in un ristorante dopo le 6. Qualcosa sarebbe come dire chiudiamo il teatro alle 6 e tutto questo fa pensare a un'epoca inaudita che abbiamo vissuto e questa è l'epoca della liberazione, quindi possiamo festeggiare come liberazione questo momento. Da prosindaco di Urbino, Sgarbi ha anche pepato di sano campanilismo l'appuntamento di Pesaro, capitale della cultura 2024. Festeggeremo con loro. Io sono prosindaco di Urbino e quindi devo ricordare che forse per la capitale europea saranno insieme le due città, ma sarebbe stato giusto lo fossero anche in questa occasione. In ogni caso Pesaro è una città veramente viva, Urbino è una città importante, più importante forse di Pesaro o legata comunque a Pesaro, che viva soprattutto per gli studenti. Quindi le due dimensioni danno il senso che la festa per Pesaro è una festa dei cittadini, non è una festa degli studenti. Quindi da questo punto di vista credo che faranno cose importanti e l'edizione del 2024, quella appunto della capitale della cultura, l'edizione del ROF, del Festival di Rossini sarà ancora più luminosa e ricca di stimoli e di occasioni.